Vi abbiamo detto che domani c'è l'Earth Day a livello mondiale, si celebrerà la giornata il 22 aprile, la giornata mondiale appunto della terra e del pianeta e allora adesso stiamo per fare un viaggio davvero particolare nell'antropologia e parleremo della via selvatica, eccolo qua, edito la terza e lo faremo proprio insieme al suo autore che è Adriano Favole, che ringrazio e saluto lui è l'autore di questo libro, è professore di antropologia culturale all'università di Torino and visiting professor all'università della Nuova Caledonia allora è davvero un piacere, grazie per essere uno da trovarci allora perché, che cos'è questa via selvatica? Sì, guarda io da tanti anni faccio l'antropologo, mi occupo di società native del Pacifico in modo particolare dell'Oceania, ma anche di altre società insulari e mi sono accorto di quanto queste società abbiano, abbiano mantenuto anche possiamo dire il senso di dipendenza dall'ambiente, di dipendenza da quelle vite umane e non umane come sono per esempio gli oceani, l'aria, le acque, eccetera e nei loro pensieri, nei loro ritmi, ma anche nelle loro azioni quotidiane molte delle persone che ho incontrato hanno questo forte senso di dipendenza o se vuoi di interdipendenza dal resto dell'ambiente e allora la via selvatica è il tentativo di raccontare da studioso di società umane come io sono la relazione che queste società o alcune di queste società hanno con l'ambiente e quindi racconto di incontri reali anche con persone che mi hanno aiutato nei miei percorsi di ricerca Beh, anche perché prof, lei ha veramente viaggiato tantissimo sia come antropologo che come ricercatore che come appunto scrittore e uno dei posti in cui è stato, di cui racconta, è l'isola della Reunion, no? Sì, Reunion non è molto lontana da Maurizius di cui stavate, di cui stavamo parlando Reunion è un'isola molto bella in cui ho lasciato veramente un po' il cuore perché è insieme un paradiso di biodiversità con i suoi grandi vulcani La Reunion sostanzialmente sono tre grandi coni vulcanici sprofondati dove si è conservata una natura straordinaria e con quella natura sono vissute molte società è una società multiculturale da molti secoli dove vivono insieme cristiani, hindu, musulmani, atei, animisti che più ne metta, non senza dei conflitti come in tutte le questioni umane dove però ci sono delle società molto interessanti mi sono occupato per esempio dei kafr che sono i discendenti degli schiavi delle piantagioni che dalla fine del XVI secolo fuggirono verso l'interno di questi coni vulcanici appunto e trovarono ospitalità, diciamo così, proprio da quei non umani con cui sono vissuti a volte per decine di anni lontani dagli sguardi anche perché venivano cacciati, respinti come dei fuggiaschi nella letteratura antropologica li chiamiamo i popoli marron che all'inizio era una parola negativa voleva dire il bestiame fuggito questi erano come degli animali fuggiti che in realtà si riprendevano una vita sociale in connessione con l'ambiente ecco e forse hanno anche fatto bene a nascondersi invece dagli uomini diciamo predatori e coloniali che arrivavano proprio per cacciarli allora invece un altro racconto molto interessante che lei fa è quello proprio racconta di come un altro popolo abbia saputo vivere in simbiosi con l'ambiente in cui abita che sono gli Inuit sì, gli Inuit io li racconto non in prima persona in questo caso il libro è una raccolta anche diciamo così di storie antropologiche gli Inuit sono una delle società più studiate dagli antropologi fin dalla fine dell'Ottocento e gli Inuit mi interessavano in questo percorso perché negli ambienti estremi in cui sono vissuti hanno sviluppato delle società che sono proprio in convivenza con gli elementi dell'ambiente quindi con i ghiacci, lo spostamento dei mammiferi marini e hanno dei riti straordinari per esempio che testimoniano il loro pensiero di quello che io chiamo l'incolto che è un po' la parola chiave di questo libro cioè quella spontaneità della vita che ci circonda delle vite non umane che ci circondano e quella dipendenza come dicevamo all'inizio peraltro, notazione curiosa noi pensiamo e siamo una società ipertecnologica, artistica eccetera sono tutte cose bellissime a cui ne vogliamo rinunciare ne rinneghiamo però non dobbiamo dimenticarci che noi non siamo meno dipendenti dall'ambiente di quanto lo fossero quelli che chiamavamo i cacciatori raccoglitori meglio dire cacciatori raccoglitrici perché sennò sono tutte due al maschile cioè noi non siamo meno dipendenti perché noi dobbiamo la vita abbiamo semplicemente perso quell'abitudine e quella capacità forse abbiamo perso la capacità di pensare a questa dipendenza e anche di ammettere umilmente questa dipendenza i combustibili fossili da cui dipendiamo in fondo sono un'altra faccia di questo mondo incolto da cui dipendiamo per la vita di ogni giorno ecco allora invece oggi la sua vita lei la passa anche qualche mese all'anno in Nuova Caledonia esattamente a Numea che è la capitale della Nuova Caledonia dove peraltro c'è anche il museo disegnato da Renzo Piano e allora che città è Numea? Allora Numea è una città curiosa perché quando ci si arriva la prima volta si ha una sensazione di delusione francamente perché si ha un po' l'impressione di essere in Costa Azzurra in fondo ci sono le baie, ci sono i bar, ci sono gli spritz della sera per dare qualche nota di colore è una città francese a 18.000 km da Parigi se poi si ha però la voglia di cercare dentro Numea di interagire con i popoli che la abitano che sono variegati, che hanno storie interessantissime si scoprono angoli della città, gli angoli più verdi dove da anni gli abitanti oceaniani della città costruiscono degli spazi che vengono chiamati squat che vuol dire qualcosa come sfruttare, abitare illegalmente eccetera che sono tentativi di ricostruire degli abitati all'oceaniana caratterizzati da una convivenza forte tra il vegetale e l'umano io le prime volte che andavo in questi luoghi vent'anni fa mi sembravano quasi delle cose esotiche come dire, una città con dentro la foresta mi fa molto piacere da antropologo che viaggia altrove ma anche con l'obiettivo di un ritorno un po' critico su di noi vedere come oggi il tema della foresta in città è uno dei temi che più discutiamo anche a Milano dove si discute di non tagliare l'erba non sfalciare l'erba almeno fino all'inizio della primavera per favorire la nostra vita con i vegetali perché stiamo riscoprendo tutta la bellezza di vivere insieme alle piante cioè ecco, secondo lei, partendo da questa politica che c'è stata che non era stata tagliata l'erba adesso non entriamo nella politica e nella polemica ma parliamo del fatto che sarebbe meglio secondo lei lasciare le aiuole milanesi un po' incolte perché questo favorirebbe magari anche, immagino, più insetti più... meno polline forse, no? Non lo so sì, chi ci segue da casa si ha la pazienza per alcuni anni di non sfalciare l'erba come si dice con termine un po' tecnico fino almeno alla fine della primavera vedrà come ogni anno si aggiungono fiori che uno si chiede anche da dove diavolo arrivi e attorno a quei fiori, insetti impollinatori insomma la ricchezza della vita in un semplice metro quadrato di terra abbandonata allora grazie mille al professor Adriano favole la via stelvatica eccolo qua